Perfetto ragazzi, eccoci qua con un'altra presentazione. Cosa vediamo qua? Tre motori, ok, e per la precisione sono tutti e tre uguali. Allora, alcuni, per alcuni progetti, appunto, vorrebbero appunto delle spiegazioni migliori, tra virgolette, per quanto riguarda questi motori qui. Conviene usarli, non conviene? Beh, come dico sempre, dipende dal progetto che stiamo costruendo. Se abbiamo appunto l'idea del progetto che stiamo costruendo, poi automaticamente ci rigoliamo, e in base poi alla tensione che gli diamo. E quindi ai vari rami di tensione che ci sono all'interno del nostro quadro, del nostro contenitore, a seconda del progetto che andiamo a costruire. Giusto? Bene. Allora, questi qua, allora, dal mio punto di vista non mi dispiacciono come motori. Sono dei tipici motori, chiaramente a tensione di rete, a coppia, ok? Come si chiama? Perché gli avvolgimenti praticamente sono speculari, uguali identici, perfetti, e sono a coppia. Ah, hanno anche un altro nome che non mi ricordo, ok? Come possiamo vedere. E sono i tipici motori che troviamo nelle stufette da bagno, nelle stufette elettriche, o in alcuni piccoli ventilatori, perfetto, ok? Qui abbiamo sempre lo stesso motore, giriamolo, ok? Vedete che sono tutti e tre uguali, perfettamente, ok? Sì, vabbè, uno magari leggermente più grosso, ma sono sempre tre modelli identici, ok? Perfetto. Qui abbiamo appunto, gli abbiamo messo appunto la ventolina, poi anche altre, ok? Per cui questi tre motori, alla seconda, allora, di cosa facciamo, si possono tornare utili, sì, sì, sì. Allora, sì, non mi dispiacciono perché hanno un consumo molto ridotto, di solito sono dei motori di una potenza di 15 Watt, ok? Non arrivano neanche a 20 Watt per questa dimensione qui, ok? Sono appunto motori che consumano pochissimo, nell'ordine dei 130 mAh, ok? Perfetto, anche meno. Per cui possono essere utilizzati appunto come semplici ventilatori, no? Io questi qui li avevo utilizzati per quanto riguarda, se non sbaglio, la famosa saldatrice, o meglio puntatrice, ok? Ok? O questi, o se no direttamente i motori in induzione dei forni a microonde, che quelli consumano ancora meno, e hanno chiaramente, sono fatti a ferro di cavallo, li vedremo anche quelli. E per cui, niente, non saprei cos'altro dire, sinceramente, su questi motorini qui. Quindi, oltre sì che vanno appunto a tensioni di rete, 50 Hz, 230 V, nient'altro, ok? Sì, ecco, nella seconda parte poi appunto possiamo accenderli. Cioè, come si chiama? Sì, li facciamo andare in poche parole. O meglio, lo facciamo andare, non ti fanno andare a tre. Perfetto! Perfetto!